Quanti di voi sanno che la Campania è la regione che riceve meno di tutte le regioni d'Italia nel riparto del Fondo Sanitario Nazionale? È una vergogna, è uno scandalo. Siamo un paese di maledetti opportunisti abituati a girare la testa dall'altra parte. Io sono per apparicare a legge i diritti e dei doveri uguale per tutti i cittadini italiani. Io, gli altri no. Bene, noi abbiamo 60 euro pro capite meno rispetto a un cittadino, l'Emilia Romagna. Non faccio l'elenco delle altre regioni. Cioè ogni anno la regione Campania viene derubata di 200 milioni di euro. È qualcosa di sconvolgente. Abbiamo recuperato un po' facendo una battaglia all'ultimo sangue lo scorso anno, ma siamo ancora al di sotto. Allora, vediamovi capirci bene. Rispetto a questa realtà che ci obbliga a compattere il più delle volte con le unghie e con i denti, cosa vogliamo fare? È del tutto evidente che l'operazione autonomia differenziata non si realizza a costo zero. Ma è evidente. La mia ipotesi è questa. Siccome credo che dobbiamo avere realismo e siccome abbiamo regioni più avanzate a punto di vista dei servizi, la sanità, no? Bene, tu fra queste. Hai il vantaggio di avere un ottimo sistema, oltre che un presidente di un Giovanni. E questo purtroppo io non posso garantirlo. Però ci stiamo difendendo, no? Siccome abbiamo regioni che hanno fatto passi in avanti anche per gli errori drammatici fatti al sud, la Campania è stata commissariata per dieci anni, perché ha accumulato dieci miliardi di euro di debiti. Quindi io, diversamente a lui che fa il don Giovanni, ogni bilancio che approvo devo prendere duecento milioni di euro e buttarli a mare per pagare i debiti accumulati negli anni novanta. E devo pagare questo debito sanitario fino al 2034? È chiaro. E nonostante questo, noi abbiamo raggiunto l'equilibrio di bilancio al netto del debito nel 2019, abbiamo un outlook migliore di quello del bilancio nazionale, un outlook positivo, e paghiamo i farmaci nei tempi più brevi d'Italia, 17 giorni in alcune ASL, media regionale, 27. Cioè ci stiamo difendendo. Allora, che la mia regione approfitta di incassare 300 milioni di euro all'anno per curare i poveri cittadini di altre regioni. Quei poveri cittadini sono costretti a scappare da sistemi sanitari che non sono in grado di garantire la salute a loro. E qui ha ragione De Luca. Cioè l'inefficienza, la malagestia del passato, oggi sta diventando veramente una spada di Damocle sul sud. Chiudo dicendoti una roba. Noi siamo come i gemelli siamesi, anche se non ci somigliamo. Siamo come i gemelli siamesi. La vita di uno è la vita dell'altro. La morte di uno è la morte dell'altro. Cioè è inconcebibile pensare, ma guardate, io poi potrei liquidare, ringrazio per l'applauso, però vorrei dire una roba. Pensare che possa esserci dietro il progetto dell'autonomia, una roba da carbonara per dire questi li diamo all'Africa, a me viene da ridere. E se volete, al di là dell'aspetto etico che è fondamentale, cioè i cittadini sono tutti uguali, ce n'è anche uno, fra virgolette, opportunistico. Se il sud continua a far buchi, li dobbiamo pagare noi. Cioè quindi per noi è un investimento comunque fare in modo che il sud si riscatti. Questo deve essere chiaro. Io ringrazio il ministro Calderoli, ma senza fare l'avvocato difensore. Siccome l'autonomia parte dal Veneto, inutile, noi abbiamo tentato tre volte il referendum. Se si fa il referendum in Veneto, se si è fatto nel 2017, il 22 ottobre, è perché la Corte Costituzionale ha detto a noi che potevamo andare al referendum. Perché da allora governo Renzi ci impugnò al referendum.